Si è chiuso ieri l'incubo della famiglia Guarascio. La moglie di figli del muratore di 64 anni, deceduto per essersi dato fuoco per evitare lo sfratto della sua abitazione di via Brescia Vittoria, non dovranno traslocare. La casa era stata costruita dallo stesso muratore dopo tanti anni di sacrifici e la famiglia aveva continuato la lotta per non doverla abbandonare. Ora lo sfratto è stato scongiurato in seguito all'intervento del gruppo del Movimento 5 Stelle a Lars. La casa infatti è stata acquistata dai pentastellati grazie al taglio delle indennità mensili al grido di la prima casa non si tocca. La donazione infatti dicono i deputati grillini è altamente simbolica e serve ad accendere i riflettori sulla legge sull'impignorabilità della prima casa fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e di cui prima firmataria è la parlamentare 5 Stelle Vanessa Ferreri. Legge che però nonostante sia stata approvata all'unanimità dall'Arsi il 22 ottobre del 2014 da allora ha fatto pochissima strada a Roma e si trova ferma al Senato. E ora dicono i deputati pentastellati che la legge mette il turbo affinché non ci siano altri casi guarascio a cui si sta pensando di testare la legge. Renzi non faccia orecchie da mercanti avvisano i grillini eventuali prossime vittime le avrebbero sulla coscienza lui e la sua maggioranza.